Ci va giù duro il sindaco di Nocera Superiore sulla vicenda CSTP. La ricapitalizzazione deve ripassare in commissione prima di arrivare di nuovo in aula. È stato deciso durante la seduta consigliare che aveva proprio quello tra gli argomenti all'ordine del giorno. Non un tatticismo, sostiene Ghetano Montalbano, ma la valutazione con coscienza di una faccenda che per il primo cittadino di Nocera Superiore ha registrato un approccio con molte ombre. Sono disponibili a salvare il CSTP e a salvare i dipendenti, che è una cosa ben diversa da ripianare i debiti. Perché se me lo consenti, chi ha causato i debiti dovrebbe rimettere di tasca propria. E non puoi fare ricorso ad altri che dovrebbero arrivare a soccorso di chi ha sbagliato nel corso del proprio mandato e ha mandato a carta 48 una struttura per da qualcuno. vorrei sapere come mai il deposito di cava dei terreni è stato acquistato a 7 milioni di euro e poi è stato messo in vendita a 2 milioni di euro. Era sbagliata la valutazione dell'epoca o quella di adesso? E vorrei capire per quale motivo ai dipendenti è stato chiesto un sacrificio sugli stipendi con riduzione e roba va. È un taglio. Ma gli amministratori o il dirittore si sono tagliati lo stipendio per calcio? Grazie a tutti.